La chiesa di San Miniato a Pagnolle è citata per la prima volta in una bolla di Papa Pasquale II del 1102. Situata sopra le pendici cesolane, la chiesa presenta una pianta a campana con coperture accapriate in legno. Sui lati dell'unica navata sono presenti due confessionali adornati con archi di pietra. Dante Alighieri trascorse parte della sua gioventù tra le colline attorno a Firenze. Uno dei posti, che amava particolarmente, era la tenuta della sua famiglia a Pagnolle, situata circa 500 metri dalla chiesa ed altrettanto vicina alla villa di famiglia di Beatrice Portinari. Possibile che proprio in questa chiesa parrocchiale, all'uscita dalla messa domenicale, sia scoccata la scintilla per una delle storie d'amore più famose di sempre?